Ciao a tutti, benvenuti al mio canale. Sono molto molto contenta di essere qui con voi. Oggi vi porto questo video della pulizia del viso con prodotti naturali. Così prepariamo il viso alla pulizia. Prendiamo un pentolino d'acqua e lo mettiamo a volire. Quando vuole, versiamo due cucchiaini di bicarbonato. Mettiamo il viso al vapore senza scottarsi. Per un quarto d'ora copriamo la testa con un asciugamano per non dispendere il vapore. Con questo semplice gesto si aprono i pori e si avvia la depurazione della pelle. Rimuovere le cellule morte e pulire la pelle. Lo scrub viso è molto importante perché serve a rimuovere cellule morte e così la nostra pelle può respirare. Per la pelle normale vanno bene zucchero, miele, succo di limone e si mischia bene fino a fare una papetta. Massaggiamo bene lo scrub sul viso evitando il contorno occhi. Quindi risciacquiamo con acqua tiepida. Passiamo alla deterzione della pelle. Puliamo bene la pelle con un detergente delicato naturale. Io lo faccio con l'olio di oliva perché la mia pelle non è grassa. Massaggiamo la pelle con movimenti circolari e poi risciacquiamo. Purifichiamo la pelle con le maschere per il viso naturale. Abbiamo bisogno dei citrioli, aloe vere, miele. Di base usiamo lo yogur naturale, spalmiamo il composto sul viso, teniamo in posa almeno 30 minuti, risciacquiamo con acqua tiepida. Chiudere i pori con il tonico. I pori sono ancora dilatati e vanno richiusi. Con un tonico fai-da-te di rosmarino è ottimo per tutto l'organismo, soprattutto per la pelle. È maggiormente indicata nei periodi di stress. Come preparare l'infuso di rosmarino. Facciamo bollire un litro di acqua, spegnere il fuoco e versare dentro 20 grammi di foglie. E lasciare riposare una decina di minuti. Il tonico va messo così sul viso e lasciato asciugare l'aria. Idratazione con la crema giusta. Idratiamo la nostra pelle con una crema. Se viene effettuata di giorno, useremo la crema di giorno. Se no, una crema da notte. Massaggiamo la nostra crema per tutto il viso. Ok cari amici, questo è tutto per oggi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Che sia molto utile per voi. Non dimenticare di dare like. Di iscriverti al mio canale. Che è totalmente gratis. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!